Dio sta dando tutte queste leggi, fa i dieci comandamenti, dove li fa? Sul monte Sinai, con Mosè, gli sta dando le leggi e gli israeliti sono là sotto, spazientiti, ne hanno le scatole piene, uffa, 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 Mosè non arriva, cosa facciamo? Facciamoci fare un vitello d'oro, così possiamo adorare questo vitello. Anche qua vi leggo una cosa, ma ve la leggo dal mio questa, uno dice, generalmente avrebbe da dire se Dio è buono e soprattutto misericordioso arriva, vede gli israeliti che si sono fatti fabbricare un vitello d'oro, generalmente se uno è buono e misericordioso mi viene da dire, ma no, mio amato popolo, pazientate un momento che sto finendo di dare le leggi a Mosè, arriva con le vostre leggi e tutto sarà più chiaro, tutto sarà bello. Il Signore si arrabbia molto per il fatto che questi si fossero fabbricati una statuetta d'oro da adorare e nel suo furore che non perdona e non conosce limiti, riprende il proposito omicida verso gli israeliti. Dice il Signore Dio di Israele, e qui siamo nella Bibbia, riporto testualmente, ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente. I figli di Levi aggirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Poi Mosè conclude dicendo che chi compierà quelle gesta si garantirà la benedizione del Signore. Vitello d'oro, ammazzate 3.000 persone per garantirsi la benedizione, addirittura vieni benedetto se vai in giro a ammazzare i tuoi fratelli e i tuoi amici.